Buonasera e benvenuti a questo nuovo evento la settimana del trading e questa sera partiamo con un ospite di eccezione è uno dei più attesi della settimana del trading è trader e consulente finanziario indipendente all'attivo milioni di eseguiti su azioni indici materie prime e autore di libri ne ha scritte due mani in alto questa è una banca indicatori e oscillatori per il trading di precisione entrambi i libri con una valutazione di quattro stellini e mezze su amazon ma so che ce n'è in cantiere un altro tanto che ne vedo uno in prevendita sarà disponibile presto quest'estate e forse ce n'è anche un quarto che arriverà in autunno è un istancabile relatore di innumerevoli corsi di trading dedicati tutti al trading è ospite di molte trasmissioni televisive investe di esperto sui mercati finanziari in questo periodo sta macinando webinar formativi al ritmo di quattro al giorno è il professionista più impegnato e richiesto del settore ho il piacere di presentarvi Gabriele Bellelli Gabriele mi senti? Grazie mille buongiorno a tutti ciao Andrea grazie mille per la presentazione te la meriti allora se sei pronto io ti passo il monitor e la parola sì ok allora partiamo con questo webinar dedicato al petrolio allora il webinar fondamentalmente verte ovviamente attorno al discorso del petrolio e sarà articolato nei seguenti argomenti prima una brevissima panoramica su che cos'è il petrolio poi andremo a cercare di capire quali sono le peculiarità con cui si muovono i prezzi del petrolio quindi cercheremo di analizzare il carattere del petrolio poi cercheremo di declinare quali sono le strategie qual è l'approccio più corretto per effettuare un'operatività multi day oppure per effettuare un'operatività intra day ovviamente sul petrolio allora partiamo dalle basi partiamo dal che cos'è il petrolio perché si fa presto a dire voglio investire nel petrolio voglio fare trading sul petrolio però di base che cos'è il petrolio è una materia prima che tradizionalmente viene negoziata attraverso dei contratti futures contratti che regolano il commercio di mille barili giusto per attitudini curiosità diciamo così un barile è costituito da 42 galloni che equivalgono circa a 159 e litri il petrolio la produzione in realtà del petrolio non è uguale in tutto il mondo non è uguale né in termini di qualità né in termini di quantità a livello di quantità ci sono dieci paesi in particolare quelli troviamo elencati in realtà è sbagliato solo il dato non è aggiornato in realtà il dato del messico e del kuwait che sono sfalsati quindi il kuwait il decimo produttore il messico è passato all'undicesimo posto quindi comunque dicevo a livello di quantità ci sono dieci paesi che sono diciamo così tendenzialmente più importanti rispetto ad altri e poi a livello invece di qualità ecco invece tutto dipende da due elementi diciamo fondamentalmente il petrolio non è tutto uguale da dove viene diciamo così estratto il petrolio assume delle caratteristiche a livello di purezza ad esempio di più o meno necessità di essere raffinato i due elementi principali in termini di qualità sono la densità e il contenuto di zolfo questo insomma quindi significa fondamentalmente che ci sono diverse qualità eh di petrolio hanno caratteristiche diverse di conseguenza avranno anche dei prezzi e delle quotazioni eh diversi eh i più famosi sono sicuramente il VTI e il brand li vediamo qui rappresentati e vedete che sotto abbiamo messo anche i prezzi aggiornati oggi pomeriggio hanno due quotazioni eh diverse il VTI viene prodotto mediamente in Texas comunque in territorio eh americano è tra i due quello considerato più pregiato entrambi in realtà sono tra i più pregiati al mondo invece il brand viene prodotto nel mare eh del nord eh ovviamente oltre a un discorso di qualità c'è un discorso anche che il prezzo dipende dall'incontro tra la domanda e l'offerta tra la domanda quindi a livello diciamo così di necessità eh economica invece dall'offerta per quanto riguarda l'estrazione dei paesi eh produttori eh ok io direi eh di passarti di nuovo la linea Andrea eh giusto per due informazioni poi dopo ripartiamo col carattere del sottostante sì vedo vedo un bel grafico insomma è quello che è successo un mesetto fa fine fine aprile con il petrolio che è sceso sottoterra proprio è ritornato sottoterra cioè lo peschiamo da da sottoterra è tornato anche con le quotazioni lì qualcosa che non avevamo mai visto qualcosa che non pensavamo neanche potesse accadere perché quando non sei abituato a vedere quotazioni negative fai anche fatica io la sera mi sono informato subito sul su come potesse essere effettivamente teoricamente era già stato proposto come come prezzo negativo nei libri di scuola però poi nessuno l'aveva mai visto quello che è successo ho sentito da molti clienti che alcuni intermediari non avevano neanche la piattaforma adatta per poter chiudere uno strumento finanziario in negativo quindi laddove c'era il future che andava in negativo non c'era la possibilità di chiudere perché la piattaforma non capiva un prezzo negativo non era ancora stato concepito dalla piattaforma questo per fortuna non è successo con noi nel senso che laddove ci sono stati dei clienti che hanno voluto operare comprare o vendere quello strumento cioè il future anche quando era negativo hanno avuto la possibilità ad ogni modo la maggior parte dei nostri clienti è abituata a operare sul petrolio cash noi abbiamo sia la possibilità di operare sul future sia la possibilità di andare a operare sul cash i prezzi sono molto simili generalmente il prezzo cash è come se noi andassimo a comprare il petrolio in questo momento dal fornitore quindi con un prezzo leggermente differente rispetto al future perché il future tiene all'interno dei suoi conti anche una serie di altre variabili come ad esempio il costo di mantenimento del petrolio il costo di stoccaggio che poi è la parte che effettivamente ha mandato sotto zero il petrolio quindi attraverso l'operatività in cash per fortuna i nostri clienti non hanno avuto quel quel balzo quella fonda del del petrolio sotto zero proprio perché il prezzo cash è calcolato in maniera differente si aggancia in qualche modo al future con scadenza con la successiva scadenza con la successiva il back front è quello più lontano di conseguenza questo impatto non c'è stato perché i nostri clienti operano sul cash perché sulla piattaforma il cash ha uno spread inferiore mentre il future ce l'ha leggermente più alto quindi di conseguenza sono tutti portati a operare sul cash e per fortuna questa cosa non c'è stata ad ogni modo per chi volesse fare trading sul petrolio vicino alle scadenze tecniche a questo punto mi sento anche di consigliare l'operatività sui certificati turbo rispetto ad altri prodotti e i certificati turbo sono dei prodotti che abbiamo lanciato qualche mese fa questo perché perché attraverso l'operatività in certificati turbo si ha già il massimo rischio quando si apre la posizione ovvero c'è un livello knock out che identifica il massimo rischio di quella nostra posizione quindi se dovesse succedere qualsiasi cosa senza andare a trovare un'altra volta il petrolio a meno x euro o dollari ma solamente ecco con una grande volatilità ritrovarci il petrolio che va nella direzione sbagliata rispetto alla mia operazione ecco che il livello knock out stabilisce la massima perdita quindi questo è un po quello quello che abbiamo offerto in questi mesi particolari per il petrolio eccezionali e questo quello che stiamo consigliando tra l'altro ti dico ci sono tantissimi trader che si sono avvicinati al mondo del petrolio quindi ti ringrazio anche per la spiegazione tra brand future perché ci sono tantissime nozioni che vanno approfondite per quando si opera sui mercati poi i dettagli sono importanti esattamente così è corretto sono d'accordo insomma la presentazione di oggi verte proprio su queste caratteristiche su questo argomento io ho terminato se se hai domande oppure se dal pubblico c'è qualche domanda siamo qui però io diciamo la mia direi di partire magari immediatamente così lasciamo un po di spazio no tra un argomento e l'altro lasciamo un po di spazio magari anche alla fine quindi se per te va bene direi di proseguire con la con la presentazione certo ok allora dopo l'introduzione molto sintetica che ho fatto sul concetto di che cos'è il petrolio ecco mi serveva giusto per inquadrare l'argomento e adesso iniziamo a entrare nel vivo del del webinar iniziando a trattare un argomento che è tanto cruciale quanto è ignorato dagli investitori ed è uno dei principali elementi che in realtà determinano la differenza tra guadagnare oppure perdere sui mercati finanziari mi riferisco alle caratteristiche del sottostante su cui si fa trading cioè il conoscere come un sottostante si muove quali sono le peculiarità del suo movimento partiamo da un dato lo vediamo dopo nel dettaglio ve lo dimostro ogni sottostante è diverso ogni sottostante ha delle caratteristiche delle peculiarità proprie di movimento dell'andamento dei prezzi ignorare queste peculiarità significa fondamentalmente utilizzare delle strategie che sono inefficienti quindi di conseguenza che poi comportano la perdita di denaro quindi insomma in questo webinar quindi cercheremo di declinare il discorso sul petrolio ma in realtà il modus operandi che vorrei trasmettervi in questo retta che staremo insieme è quello con cui dovreste affrontare qualsiasi sottostante quindi fate trading non sul petrolio ma ad esempio sull'indice S&P 500 americano ecco lo stesso approccio che vi faccio vedere tra pochi minuti lo dovreste applicare anche a quel sottostante fate trading sull'azionario benissimo ogni azione la dovete affrontare in questo modo quindi quello che cercherò di fare al di là del discorso strategie operative in realtà è il modus operandi per affrontare correttamente i mercati finanziari allora il primo aspetto che è cruciale quando noi andiamo a fare trading in questo caso ripeto sul petrolio ma vale per qualsiasi sottostante è cercare di capire qual è il carattere del sottostante cioè quali sono le peculiarità di movimento bisogna partire da un presupposto i mercati finanziari sottostanti sono come noi persone come noi individui non siamo tutti uguali ognuno ha un carattere c'è chi è espansivo c'è chi è riservato nella vita quotidiana per quanto riguarda gli umani ecco anche i sottostanti hanno delle caratteristiche particolari queste peculiarità di movimento dopo le andiamo a inquadrare sono dettate da numerosi fattori uno di questi fattori è la tipologia degli operatori su che lavorano su quel settore su quel titolo ad esempio e i titoli per dire le blue chips pensiamo ad esempio mercato americano johnson johnson potter and gamble eccetera sono titoli tra i più tradati al mondo sono fondamentalmente titoli su cui l'operatività è in mano ai professional ci sono invece ad esempio dei titoli pensiamo alle small cap del mercato italiano che invece sono titoli dove gli operatori professionali sono molto meno presenti in alcuni casi potremmo definire che sono titoli talmente illiquidi che anche gli operatori diciamo così non professionali sono poco presenti sul titolo ovviamente pensare che un titolo così poco liquido o un titolo come johnson johnson abbia delle stesse peculiarità di movimento dei prezzi assolutamente sbagliato poi quello che cambia e che determina le peculiarità di prezzo sono ad esempio la liquidità l'impatto delle notizie quindi la liquidità elevata o scarsa l'impatto che hanno le notizie su questi titoli gli orari di contrattazione proviamo a pensare a un titolo come stm oppure come fiat che è quotato contemporaneamente su due mercati che hanno una fase di ombra cioè c'è un momento della giornata dove il mercato italiano è chiuso ma il mercato americano è quotato e aperto e quindi fiat da noi è chiusa ma in america invece continua a negoziare ovviamente al mattino successivo il prezzo di apertura italiana si allinea a quella che è stata la chiusura americana anche questo è un dettaglio da tenere in considerazione morale della favola se ogni sottostante ha delle peculiarità proprie di movimento questo significa che non esiste la strategia perfetta cioè quella strategia che risulta essere profittevole quindi che possiamo utilizzare in qualsiasi contesto di mercato cosa vuol dire la strategia che funziona in ogni contesto di mercato vuol dire che non esiste la strategia che funziona su ogni sottostante quindi che utilizzi sulle azioni sugli indici sugli etf sulle materie prime sul forex non esiste neanche la strategia che funziona in ogni time frame cioè una strategia che funzioni sul grafico intraday ad esempio 5 minuti 15 o 60 e che funziona altrettanto bene sul grafico giornaliero o sul grafico settimanale non esiste come non esiste una strategia che funziona in ogni contesto di mercato dove per ogni contesto si intende una fase rialzista una fase ribassista o una fase laterale dei prezzi ma anche fasi di alta o di bassa volatilità che sono due concetti legati alla volatilità alto bassa poco in genere citati in questi webinar nei convegni in realtà sono determinanti dal punto di vista operativo quindi morale della favola i sottostanti sono tutti diversi come peculiarità e quindi la strategia infallibile che funziona urbi e torbi su qualsiasi condizione di mercato su qualsiasi sottostante non funziona quindi non perdete neanche tempo a cercarla perché fondamentalmente non esiste cosa possiamo fare a livello di trade anzi cosa dobbiamo fare andare semplicemente a studiare quali sono le caratteristiche del sottostante e di conseguenza applicare solo quelle strategie che sono in sintonia con quel sottostante quindi quelle strategie che assecondano il carattere del sottostante da un punto di vista operativo il carattere del sottostante può essere diciamo così classificato in due diverse modalità il carattere breakout da una parte e il carattere mirreverte no immaginate la situazione come se fosse don camille peppone no quindi un sottostante appartiene o alla parrocchia dei titoli breakout o alla parrocchia dei titoli min reverting sono due operatività le vediamo subito concettualmente diverse tra loro anzi potremmo definire che sono l'opposto l'una dell'altra perché le strategie di breakout prevedono fondamentalmente di acquistare la forza di un titolo e andare short sulla debolezza invece di un titolo l'esempio classico è compro la rottura di resistenza no quindi identifico un livello di resistenza dei prezzi alla rottura del quale scatta il segnale di acquisto questo è un tipico esempio di acquisto sulla forza proprietà transitiva individua un livello di supporto quando questo livello di supporto viene rotto a ribasso ecco che abbiamo il segnale short questa è la classica analisi tecnica no eh sono le regole base dell'analisi tecnica chiunque è partito studiando i famosi libri il marfi il pring no e su cui viene raccontato fondamentalmente è questo approccio quantomeno viene consigliato quindi il carattere breakout significa comprare la forza comprare la rottura di resistenza al contrario invece le strategie min reverti fanno esattamente contrario cioè cercano di comprare la debolezza chiamiamolo ipervenduto chiamiamo l'eccesso ribassista per poi andare a rivendere sulla forza qui eh in sfondo vedete vediamo un tipico esempio di una strategia min revert vedete abbiamo i prezzi che salgono in questo contesto rialzista vedete abbiamo una fase di debolezza questa debolezza viene sfruttata per effettuare un acquisto poi sul successivo rimbalzo la eh diciamo così la posizione viene chiusa portando a casa il guadagno quindi il concetto alla base del min reverting è quello che i prezzi tendono a tornare verso una propria media e quindi questo concetto viene sfruttato cercando di comprare su debolezza e rivendere sulla forza lato short ovviamente significa cercare di vendere sulla forza e di ricoprire la posizione su debolezza quindi vedete che un carattere breakout piuttosto che un carattere min reverting sono uno l'opposto dell'altro cioè il breakout compra la forza il min reverting compra la debolezza sono due approcci diversi allora cerchiamo di vedere eh di fare un passo avanti no quindi abbiamo detto che eh i ehm i sottostanti sono tutti diversi e eh hanno un carattere che può essere o breakout o min reverting vediamo un esempio no prendiamo due titoli ho preso due titoli italiani molto famosi eh ho preso terna e eh fiat due titoli eh italiani due titoli molto famosi qui li troviamo vedete rappresentati nel grafico il grafico ecco mi sono sbagliato in realtà il terna è il titolo sottostante scusate fiat il titolo di sopra ho invertito eh le due definizioni ma i grafici sono corretti quindi qui sopra troviamo vedete l'andamento storico dal 2004 ad oggi di fiat e sotto invece troviamo il grafico l'andamento storico del titolo terna cosa facciamo a questo punto abbiamo preso due titoli molto importanti italiani e adesso a ciascuno di questi andiamo ad applicare prima una strategia con carattere breakout e poi una strategia con carattere min reverting e andiamo a vedere che cosa succede partiamo dal titolo terna terna lo andiamo a trattare prima con una strategia min reverting e questa in alto e poi qua sotto con una strategia di breakout questa è una strategia molto molto semplice non entriamo neanche nei dettagli perché in realtà eh più che una strategia completa eh a livello operativo è semplicemente un test che mi serve per capire solo il carattere del sottostante quindi è una strategia questa che ho utilizzato per fare questo test che presenta solo la parte long e non la parte short eh non è compreso il money management non è compreso lo stop loss con la gestione del rischio quindi è una strategia tra virgolette eh ridotta all'osso semplicemente cerca di eh nel caso della della parte min reverting trovare una fase di debolezza per comprare e eh puoi approfittare del rimbalzo per vendere invece per quanto riguarda breakout cerca una fase di debolezza e scusatemi di forza per comprare poi sulla successiva debolezza cerca di prendere profitto questi due grafici parlano da soli allora come si legge questo doppio grafico eh in alto troviamo abbiamo detto la strategia min reverting in basso la strategia è breakout la linea nera che vedete in entrambi i grafici non è altro che l'andamento del titolo di prima invece quella linea sotto che in un caso è verde nell'altro caso è rosso rappresenta l'equity line l'equity line sarebbe eh l'andamento della eh diciamo così della linea dei profitti quindi del vostro conto corrente mettiamolo in questi termini se aveste seguito questa strategia sul vostro conto eh il confronto vedete è impietoso anche senza essere esperti di mercati finanziari si vede nettamente come la prima strategia quella min reverting che compra la debolezza sul titolo terna presenti vedete un equity line assolutamente invidiabile considerando anche la semplicità di questa strategia quindi da un punto di vista operativo possiamo giudicare senza ombra di dubbio terna come un titolo che ha un carattere sfacciatamente min reverting tant'è che vedete l'equity line eh della strategia breakout che acquista la forza è non solo inclinata verso il basso ma nettamente colorata di rosso sangue no giusto per dare l'idea dei risultati di questo approccio quindi morale della favola il titolo terna lo possiamo battezzare nettamente come min reverting al contrario invece il titolo fiat lo troviamo qui sui due eh grafici che troviamo uno sopra l'altro in alto troviamo l'approccio min reverting quindi il comprare la debolezza e rivendere sul rimbalzo sotto invece troviamo l'equity line dell'approccio breakout quindi l'acquisto della forza in questo caso vedete la situazione diventa esattamente diversa fiat si dimostra un titolo invece dove le strategie vedete min reverting portano l'equity line a perdere soldi quindi comprare su debolezza fiat non conviene al contrario invece gli acquisti sulla forza eh del titolo fiat quindi la strategia di breakout vedete che hanno un equity line eh sostanzialmente crescente quindi questo conferma in questo caso che il titolo fiat ha una eh come dire ha un carattere eh breakout quindi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti abbiamo dimostrato che effettivamente i titoli hanno un carattere piuttosto che un'altra attenzione a una serie di eh dati ehm questo approccio quindi questo test no quindi il creare due trading system uno con carattere min reverting uno con carattere breakout eh lo dobbiamo applicare a ciascun sottostante su cui facciamo trading no quindi se lavoriamo sull'azionario italiano se lavoriamo sugli indici se lavoriamo sul forex no per qualsiasi sottostante che noi andiamo a negoziare dobbiamo andare a effettuare questo doppio test quindi cercare di capire qual è il carattere ad esempio dell'euro dollaro piuttosto che eh delle dell'euro sterlina eccetera eh ci creiamo un file Excel io lo chiamo la biblioteca dei sottostanti ognuno lo chiama eh come vuole fondamentalmente in questo file Excel andiamo a inserire tutti i nomi dei sottostanti che tradiamo e di fianco andiamo a inserire il carattere del sottostante attenzione un dato e anzi più di un dato allora eh il primo dato il carattere può cambiare nel corso del tempo l'euro dollaro è forse l'esempio più famoso eh in questa direzione fino al 2013-2014 l'euro dollaro aveva un determinato carattere da quel momento lì cioè da quando le banche centrali sono diventate attrici ancora più protagoniste eh che nel passato il carattere dell'euro dollaro è cambiato quindi primo aspetto attenzione perché periodicamente dovete monitorare i risultati del diciamo così delle classifiche no del carattere perché tende a non essere stabile o sempre stabile nel corso del tempo questo è il primo aspetto a complicare ulteriormente il quadro c'è un secondo dato che il carattere può essere diverso a seconda del time frame operativo cioè ci sono dei titoli che sul grafico giornaliero hanno ad esempio un carattere min reverting e invece negoziati in intraday hanno un carattere breakout quindi anche questo è un dato da analizzare questo vuol dire che noi il testo del carattere lo dobbiamo fare su ogni time frame su cui andremo a lavorare quel sottostante quindi non limitarsi al grafico giornaliero ma se lavoriamo anche in intraday andare a testare il carattere su base intraday guarda ho un paio di domande si stanno chiedendo tutti ovviamente che tipo di titoli avranno un carattere piuttosto che l'altro in molti si chiedono come faccio a fare backtest e come faccio ad avere dei grafici così credo che quasi tutte le piattaforme abbiano degli strumenti di backtest e in alcuni casi anche la possibilità di creare un trading system e poterlo testare in demo oppure fare appunto il backtest sullo storico noi in particolare abbiamo pro real time e ha proprio tutte queste funzioni e poi mi chiedono anche come facciamo ad avere questo tipo di carattere come facciamo a testare un carattere di un titolo beh io farei un paio di esempi credo se non ho capito male se non so prendiamo ad esempio una media mobile che è l'indicatore più classico che c'è se il prezzo si trova sopra la media mobile ed è un min reverting immagino che il prezzo debba tornare vicino la media mobile quindi quello è un segnale short ora immagino che se facciamo il test con la media mobile allora un sistema min reverting sarà se il prezzo scende sotto la media mobile compra scende di tanto ci sarà magari ecco dipende dal titolo le finezze sono varie però ad esempio prendi una media mobile a 5-10 periodi e dici se il prezzo scende sotto la media 10 periodi compra se il prezzo sale sopra la media 10 vendi questo è il carattere mire vertice compro la debolezza cioè la discesa sotto la media mobile e il ritorno sulla forza quindi sopra la media vado a vendere ripeto questo è un sistema molto grezzo non neanche un trading system in realtà perché è solo long in questo caso non ha stop loss non ha money management quindi è proprio rudimentale però mi serve per capire dove fiuta il vento invece l'approccio breakout è esattamente il contrario un approccio trend follower se vogliamo quando parlo di breakout mi riferisco anche al concetto di trend follower sono due sinonimi in questo caso come carattere in questo caso ad esempio quindi un approccio breakout potrebbe essere prezzi salgono sopra la media ad esempio 10 periodi compro quando i prezzi scendono sotto la media 10 periodi vado a vendere a prendere profitto questi sono due esempi molto semplici si possono scrivere comprare il time con visual trader che è quello che sto facendo vedere in questo momento con la meta trader 4 ci sono tanti software poi è chiaro che si può complicare il quadro con 3 station piuttosto che multichess eccetera ma questo è un altro discorso perché vuol partire però il time che hai citato prima va più che bene assolutamente questi test si fanno sono due righe di codici sì guarda Gabriele mi viene in mente una cosa incredibile io sono sempre stato uno di quelli che legge l'RSA in maniera inversa rispetto a tutti ovvero tutti quando sale sopra i 70 dicono no ipercomprato vendi 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 dico no è un indice di forza quindi compriamo cioè io lo leggo al contrario e ho trovato anche qualcuno che lo legge come me però la maggior parte lo legge insomma ipercomprato e ipervenduto quindi adesso ho capito che finalmente abbiamo ragione tutti ci sono alcuni titoli che si comportano in un modo e alcuni in un altro per esempio tu prendi l'S&P 500 che è l'indice azionario americano che credo che sia il non plus ultra del min reverting come carattere se tu utilizzi l'RSA di Wilder a due periodi, quattro periodi, cinque periodi, venti, quello che ti pare insomma più o meno il concetto resta abbastanza valido su quell'indice e compri l'ipervenduto e vai a monetizzare sull'ipercomprato ottieni mediamente delle equity line crescenti se poi metti un filtro di tendenza cioè prezzi sopra la media 200 eseguo solo operazioni long prezzi sotto la media 200 eseguo solo operazioni short migliora ulteriormente il risultato se questo test tu lo fai su un sottostante che ha tendenze particolarmente direzionali e persistenti penso ad esempio al Bund ottieni un massacro da questo punto di vista sul Bund invece converrebbe fare esattamente come dicevi tu cioè quando l'RSA sale sopra 50, 70, adesso non mi ricordo i valori ho fatto i test parecchi anni fa per cui vado un po' alla cieca ma giusto per dare un'idea allora a quel punto veniva il momento di comprare poi quando i prezzi scendevano non so sotto 90 e quindi ritornavano sotto 90 potevi prendere profitto adesso non ricordo i valori precisi però il concetto era quello cioè nel Bund che è un indice che ha una certa persistenza di movimento anche perché il Bund non si muove come ad esempio l'azionario sul discorso utili o cose di questo tipo ma si basa sui tassi di interesse poi negli ultimi anni anche sugli acquisti delle banche centrali ma questo è un altro discorso e quindi ha delle tendenze che sono persistenti nel corso del tempo e quindi in questo caso come dicevi tu quando sale in iper comprato invece di vendere ci sarebbe da acquistare e viceversa assolutamente corretto comunque grazie al tuo webinar mi hai lanciato un'altra idea dovrò per forza di cose a questo punto fare un intervento un altro giorno dovrò creare un webinar su come fare un backtest a questo punto perché ho 400 persone che mi stanno chiedendo proprio questo mostraci come fare un backtest solo che oggi non ce la faremo e quindi lo farò sicuramente un'altra volta anzi approfitto per rispondere a un'altra domanda in tanti si sono persi la primissima parte mi stanno chiedendo la registrazione tutti i webinar della settimana del trading sono registrati saranno messi a breve su youtube abbiamo già messo i primi due quelli che abbiamo svolto lunedì su youtube e quindi li trovate andando a cercare IG Italia li trovate ad ogni modo il mio consiglio è quando trovate IG Italia cliccate su subscribe o iscriviti dipende in che lingua avete youtube in questo modo ricevete il feed e sapete la notifica e sapete quando il webinar in questo caso quello di Gabriele sarà pronto esatto ok posso andare avanti? ci sono domande Andrea no 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 una mi chiedono del tuo libro in prevendita hanno seguito insomma la parte iniziale hanno trovato effettivamente la prevendita su Amazon quindi hanno già visto che si può prenotare sì è corretto in realtà c'è qualche incertezza ancora sui tempi per causa coronavirus riapertura e non si sa se sarà in uscita a settembre adesso vedremo ma comunque il libro lo scritto il manuale il manoscritto ce l'ha l'editore lo sta editando quindi sono ottimista invece Giovanni mi dice che il libro degli oscillatori è la Bibbia per lui ok ottimo mi fa piacere grazie mille Giovanni ok allora riprendiamo da qui quindi abbiamo capito che i titoli hanno un carattere diverso che può essere min reverting o breakout e abbiamo visto che il carattere non è stabile nel corso del tempo può cambiare ah stavo aprendo una parentesi scusate che interessante è questa sull'euro dollaro dicevo che l'euro dollaro è cambiato come carattere su base giornaliera quindi sul grafico daily nel 2013-2014 ma l'euro dollaro ha un'altra caratteristica particolare perché l'euro dollaro per tutti quelli che fanno forex è probabilmente il più trattato di tutti il problema è che è anche il più difficile da tradare e lo dicono le statistiche trovare dei trading system che funzionino dall'equity che siano crescenti in modo stabile e costante sull'euro dollaro è molto complicato soprattutto nell'intraday per un motivo molto semplice le valute l'euro dollaro facciamo sono praticamente aperte h24 quasi h24 il problema è uno che gli operatori che comprano e vendono l'euro dollaro si alternano cioè nel senso nessuno sta sveglio 24 ore su 24 5 giorni a settimana per seguire il mercato qualche santo giorno la persona riposa almeno qualche ora e quindi ci sono operatori diversi di continenti diversi che si diciamo così intervallano si danno il cambio nel negoziare proviamo a pensare come può essere strutturata la giornata dalla mezzanotte fin verso le 8-9 di mattina quali saranno gli operatori che faranno il mercato sull'euro dollaro ovviamente saranno gli asiatici quindi immaginiamo Giappone, Australia eccetera poi nella fase che va dalle 8-9 di mattina quando noi europei ci alziamo fino alle 2-3 di pomeriggio quando cioè apre Wall Street il mercato ovviamente lo facciamo noi europei insieme ovviamente agli inglesi e poi al pomeriggio diciamo quindi tra le 2-3 quando apre Wall Street fino alle 22 di sera ovviamente il mercato lo fanno gli americani sono da questo punto di vista quelli che poi trainano quindi la volata in quel momento da questo punto di vista quindi abbiamo diviso innanzitutto la giornata in tre settori questi settori però sono diversi da un punto di vista operativo perché sono diversi gli operatori che trattano questo sottostante ad esempio nella fascia notturna chiamiamola così quindi quella che va da mezzanotte alle 8-9 di mattina gli operatori di riferimento sono abbiamo detto gli asiatici non essendo però nell'euro né il dollaro la loro valuta base si andranno sicuramente a operare sull'euro-dollaro ma questo significherà avere mediamente volumi ridotti rispetto alle altre fasce orarie della giornata e soprattutto avere volatilità ridotta e sia volumi ridotti che volatilità ridotta sono uno degli elementi da evitare come la peste per chi fa soprattutto trading intraday la volatilità è uno di quegli elementi che sono il sale dei mercati finanziari il sale del trading gli operatori e soprattutto i neofiti quelli che muovono i primi passi hanno paura della volatilità in realtà la volatilità alta mi riferisco in questo caso alla volatilità alta le forti oscillazioni di prezzo sono il sale del trading soprattutto se facciamo intraday noi dobbiamo trovare un sottostante che possa fare tanta strada in poco tempo cioè nell'arco di quella giornata di quelle ore che stiamo lavorando al contrario se il titolo è poco volatile noi entriamo, il titolo sta fermo poi usciamo, abbiamo pagato le commissioni al broker che sarà molto felice se abbiamo perso andiamo alla minus nello zainetto fiscale se abbiamo la plus valenza diamo l'obolo allo stato per le tasse a noi non c'è rimasto nulla quindi abbiamo messo a rischio il nostro capitale per non portare a casa niente se invece il mercato è volatile ecco che abbiamo del margine di potenziale guadagno quindi morale della favola di notte poca volatilità poca liquidità non è sicuramente un asset da negoziare ci sono altri cambi meglio ancora altri cross che sarebbero da utilizzare al mattino invece entrano in gioco gli europei l'euro è ovviamente la nostra valuta di riferimento quindi l'euro diventerà molto liquido diventerà sicuramente più volatile e assumerà un carattere generalmente breakout quindi al mattino converrebbe in teoria andare a cercare i breakout dei prezzi sul euro dollaro al pomeriggio invece quando il mercato lo fanno gli americani l'euro dollaro invece tende ad assumere maggiormente un carattere min reverting e quindi tende a convenire acquistare su debolezza e rivendere poi sulla forza quindi questo è un esempio di come a seconda delle fasce orarie cambino gli operatori cambia la liquidità cambia la volatilità e di conseguenza anche l'approccio di mercato che noi abbiamo su questo sottostante deve variare l'euro dollaro quindi è uno dei più complicati da gestire facciamo però un passo avanti perché poi è l'obiettivo di questo webinar e concentriamoci sul carattere qual è il carattere del petrolio? ecco la prima cosa da chiedersi che ne sono arrivate tante le domande non te le ho ancora girate perché poi saresti dovuto andare avanti con la presentazione però tutti puntavano sul petrolio c'ho una serie di clienti interessati sul petrolio che mi scrive ma quando è che arriva il petrolio? arriviamo arriviamo prima bisogna spiegare un attimino l'inizio quella era l'introduzione adesso abbiamo cominciato a parlare cominciamo adesso a parlare di petrolio allora classica domanda a questo punto è il petrolio che carattere ha? ha un carattere breakout o un reverting? allora questo è un test simile a quelli di prima basato su pattern di prezzo in realtà rispetto a quelli di prima ma non cambia nulla la struttura è esattamente questa dove fondamentalmente ho testato un primo sistema mir reverting quindi ho detto proviamo sul grafico giornaliero del petrolio a comprare la debolezza e rivendere la forza l'equity line che vedete in sfondo in questo momento quello che vedete in sfondo in questo momento è il grafico dell'equity line cioè la linea dei profitti della strategia cioè il vostro conto corrente se aveste applicato questa strategia lo vedete anche senza essere esperti è una strategia che perde soldi è una strategia che avrebbe portato un risultato negativo quindi sicuramente il petrolio non ha carattere min reverting proviamo a fare il contrario quindi a girare quella strategia basata su pattern di prezzo per cercare di volgerla in chiave di breakout quindi andiamo a vedere se la rottura del massimo precedente piuttosto che del minimo precedente ci dà la possibilità di andare a guadagnare soldi sul euro dollar in questo caso quindi testiamo una strategia di breakout questa è una strategia semplicissima per cui non guardate l'equity line se è bella o brutta perché non è una strategia da utilizzare con denaro reale è proprio una strategia che mi permette di entrare long sulla forza e di andare short sulla debolezza una strategia stop and reverse in questo caso quindi non è l'obiettivo di valutare la strategia in questo caso l'obiettivo è quello di capire se questa equity è crescente ed è migliore di quella precedente in questo caso questa equity line è sicuramente crescente non è bellissima ma è sicuramente crescente ed è senz'altro nettamente migliore dell'altra quindi da questo punto di vista possiamo nettamente battezzare il petrolio come un carattere breakout quindi già abbiamo fatto un primo passo avanti abbiamo capito che il petrolio su base daily quindi su grafico giornaliero ha un carattere breakout quindi conviene comprare la rottura di resistenza e poi conviene comprare e andare short scusatemi nella rottura dei supporti quindi prima caratteristica ha un carattere breakout sul giornaliero qui non vi faccio vedere anche i test intraday ve lo dico a voce anche in intraday mantiene un carattere di breakout quindi possiamo dire che l'oro e scusate l'oro il petrolio sia sul multiday quindi sul grafico giornaliero che sul grafico intraday quindi per l'operatività intraday o per l'operatività multiday ha un carattere di breakout conviene quindi comprarlo sulla forza e shortarlo sulla debolezza e questo è un primo aspetto importante c'è un secondo aspetto importante che è legato al petrolio o più in generale al mondo delle materie prime perché abbiamo introdotto il video di oggi dicendo attenzione che il petrolio è una materia prima le materie prime hanno una caratteristica fondamentale sono diciamo così fortemente soggette alla stagionalità stagionalità propizia o stagionalità sfavorevole il petrolio non sfugge a questa a questa regola questo è una delle varie diciamo così dei farigrafici gratuiti che trovate su internet vedete il sito si chiama equityclock.com e ho messo apposta questa immagine tratta da un sito gratuito perché volevo che tutti potessero andare a sporcarsi le mani su questo sito per cercare di capire la stagionalità in questo caso del crude oil ma volendo uno la può andare a cercare sulla soia piuttosto che sul su quadranza vedrete che tutte le e tutte le materie prime sono soggette a una stagionalità in realtà ci sono dei siti a pagamento qui non ho messo il grafico e season algo ad esempio cose di questo tipo che vi danno lo stesso grafico ma un pochino più diciamo così raffinato come risultati un pochino più precisi ma l'obiettivo del webinar è quello di istruire il modus operandi quindi questo grafico va benissimo questo grafico quindi che cosa rappresenta fondamentalmente rappresenta l'andamento storico del petroglio del crude oil misurato mese su mese negli ultimi 30 o 40 anni non mi ricordo quindi ci sono fondamentalmente 40 campionamenti uno per 40 per gennaio febbraio marzo eccetera quindi gli ultimi 30 o 40 anni non mi ricordo a memoria di preciso cosa si nota in questo grafico beh si nota che c'è sicuramente una stagionalità propizia che parte circa verso il 15 il 20 di febbraio indicativamente vedete e che si accompagna per diciamo così se riesco a prendere no chiedo venia allora tolgo perché io non riesco usare il colore dicevo aspetta che finisimo questa cosa poi dopo ti ti passo la linea volentieri dicevo ci sono vedete un'accelerazione nei primi come dire il primo mese mese e mezzo che va da metà 20 febbraio fino a metà marzo dove c'è un'accelerazione molto forte poi c'è una seconda accelerazione vedete nella fase che va tra maggio e giugno dopodiché vedete da luglio in poi invece comincia a esserci una fase di debolezza che dura vedete fin verso novembre inizio dicembre quindi da un punto di vista operativo questo grafico ci dice che il crude oil ha una stagionalità che è propizia nella prima parte dell'anno mettiamola in questi termini e che è sfavorevole nella seconda parte dell'anno attenzione il fatto che si dica che da metà febbraio a metà marzo indicativamente c'è una stagionalità positiva e che questo sia stato dimostrato statisticamente su una base lunga come 30-40 anni attenzione non deve trarre in inganno non vuol dire che tutti gli anni nel periodo che va che so da metà febbraio a metà marzo il petrolio salirà sicuramente idem non è detto che nella fase finale dell'anno il petrolio scenderà sicuramente questo sono quello che dicono le statistiche poi anno su anno ovviamente il discorso può cambiare quest'anno ad esempio la fase rialzista non è che ci sia stata e quindi sono dati da prendere con le pinze però evidenzia una stagionalità abbastanza stabile nel corso del tempo a te Andrea sì questa cosa effettivamente l'avevo notata senza sapere che c'era equity clock che mi sono segnato per andare a vedere qualche altra stagionalità ma non ho mai capito bene il motivo così ho sempre pensato forse in estate si va più in giro con l'auto però dall'altra parte del mondo è inverno e quindi insomma difficile dare questa spiegazione e in più ho sempre notato che altri combustibili che sono invece necessari per il riscaldare le abitazioni gli uffici hanno il ciclo contrario ovvero in inverno hanno sempre un rialzo per poi avere il ribasso prima che cominci l'estate è proprio inverso e credo che un utente anche l'abbia notato perché stava chiedendo lumi sul fatto di poter operare in spread trading con le materie prime assolutamente sì adesso non è argomento di oggi ma assolutamente le materie prime sono uno probabilmente l'asset migliore per lavorare in spread trading per chi non lo sapesse lo spread trading significa assumere contemporaneamente una posizione long e contemporaneamente una posizione short su due asset chiamiamolo uno A e uno B l'esempio classico che viene fatto in realtà è tra il titolo coca cola e il titolo pepsi quindi due titoli appartenenti allo stesso settore uno lo compre quindi vado long e uno lo short vado short e a seconda del contesto che il ratio quindi il rapporto tra questi due sia in fase di allargamento diminuzione vado a comprare e a vendere uno piuttosto che l'altro in realtà l'esempio che viene fatto da tutti tra coca cola e pepsi è un approccio che per carità lo si può fare lo si può perseguire quindi quello dello spread su titoli azionari però attenzione perché lo spread su titoli azionari non è particolarmente stabile è difficile trovare coppie di titoli che abbiano una certa stabilità se non entro i tecnici matematici ma il concetto è quello perché? perché semplicemente noi è vero che coca cola e pepsi in italia possiamo citare unicredit intesa erg e eni per dire sono titoli simili che appartengono al stesso settore ma in realtà sono comunque mele e pere nulla vieta che io compro coca cola e vado short di pepsi e mi trovo non market neutral come nell'idea base della strategia ma magari coca cola che ho comprato comincia a scendere e pepsi che ho shortato comincia a salire quindi in questo caso oltre ad aver pagato il doppio delle commissioni mi ritrovo a perdere anche ambo i lati della strategia invece sulle materie prime il discorso è molto interessante perché ad esempio io posso ad esempio andare long e quindi comprare il contratto sul petrolio non so con scadenza luglio e andare short sul contratto scadenza dicembre in questo modo e minimi pago sempre le doppie commissioni se vogliamo però elimino il rischio che un contratto vada da una parte che uno vada dall'altra e che quindi possa perdere su entrambi i lati come invece poteva capitare su coca cola e pepsi che ho citato prima se quindi si lavora in spread trading si lavora anche sulla stagionalità perché anche lì c'è un discorso di stagionalità ecco che lo spread trading su materie prime diventa una soluzione molto molto efficiente una soluzione che potrei giudicare come a rischio contenuto perché il basso rischio sui mercati finanziari purtroppo non esiste è un'operatività che tra l'altro si può fare anche con dei margini assolutamente contenuti e che dà dei risultati abbastanza sottolineo abbastanza stabili nel corso del tempo si perdono soldi anche lì per carità però diciamo che un'operatività è molto interessante sicuramente si ci sono altre un altro milione di domande ma non riesco a fartene tutte perché ok andiamo velocissimi perché abbiamo pochi minuti quindi dicevo la stagionalità è uno di questi elementi a questo punto abbiamo già due basi per andare a ragionare cioè una strategia multi day quale potrebbe essere beh una strategia di breakout visto che il carattere breakout quindi la rottura di una resistenza abbinata alla stagionalità ovviamente la stagionalità propizia quindi che cosa posso fare posso individuare la finestra stagionale propizia e all'interno propizia intendo rialzista a quel punto cosa faccio aspetto la rottura di un livello di resistenza che può essere proprio il livello di prezzi di una resistenza classica come scritto nel marfi nel pring oppure posso lavorare con un breakout ad esempio di volatilità quindi non un breakout di prezzo ma di volatilità quindi mi vado a creare un canale dei massimi quindi vado a trovare sempre un livello di resistenza ma in funzione non solo del prezzo anche della volatilità ad esempio canale dei massimi a 20 periodi più la metà della TR a due periodi butto lì dei numeri a caso giusto per dare un'idea operativa in questo caso quando i prezzi nella stagione favorevole rompono a rialzo la resistenza che sia calcolata sul prezzo sulla volatilità non è importanza il concetto resta quello si può acquistare ovviamente se la stagionalità invece è ribassista quindi è sfavorevole a quel punto invece andremo a cercare solo che cosa la rottura dei supporti la rottura quindi dei minimi di mercato ovviamente per andare a cercare di assecondare quella stagionalità una volta che o long o short ho preso posizione a favore della stagionalità non devo fare altro che gestire la posizione la prima cosa da fare è uno stop loss io in genere sulle materie prima lavoro con degli stop monetari questo è un vezzo mio perlomeno e poi possiamo gestire la posizione da un punto di vista operativo possiamo fare due cose allora visto che è una strategia break out è una strategia trend follower è una strategia che in genere conviene cercare di lasciar correre il più possibile quindi sicuramente lavorare con un trailing profit per gestire le posizioni in guadagno cioè quelle che non vanno in stop volendo si può se un investitore utilizza ad esempio immaginiamo CFD piuttosto che i contratti futures magari può smezzare la posizione quindi metà posizione la vado a chiudere con un take profit e la rimanente posizione ad esempio l'altra metà di posizione vado a lavorarla come dicevo prima con un trailing profit in questo modo ottimizzo ancora i risultati un dato utile da un punto di vista operativo ve lo suggerisco è quello che quando finisce quella finestra propizia conviene in genere chiudere la posizione indipendentemente dal take profit e dal trailing profit quindi se siamo nella finestra rialzista per la positiva abbiamo comprato il titolo sta salendo ma la finestra finisce e quindi inizia luglio nell'esempio precedente quindi immaginate che abbiamo comprato che so a giugno inizia luglio ecco all'inizio di luglio conviene comunque chiudere la nostra posizione se siamo short vale ovviamente il contrario quando finisce la stagionale sfavorevole conviene prendere posizione indipendentemente dal take profit o dal trailing profit questo è un approccio molto semplice che qualsiasi trader discrezionale può gestire potevo farvi vedere delle strategie anche molto più complicate volendo ma l'ho selezionata apposta perché è una strategia che unisce due punti di forza cioè l'analisi statistica del breakout del carattere e l'analisi statistica della stagionalità messe insieme si mettono le probabilità dalla propria parte se poi uno è abile a scartabilare tra i grafici individuare i livelli di resistenza di supporto ecco che il gioco è fatto tiene sicuramente dei vantaggi a utilizzare un approccio di questo tipo io quello che avevo fatto vedere adesso è una strategia molto semplice che chiunque può replicare in realtà si possono utilizzare sempre su base daily per dire delle strategie anche un pochino più raffinate ad esempio si può lavorare contemporaneamente sul grafico settimanale sul grafico giornaliero se sul grafico settimanale della settimana che si è appena conclusa noi abbiamo una contrazione di volatilità quindi abbiamo il range dell'ultima settimana che è trascorsa che è minore del range della settimana precedente quindi abbiamo una volatilità in diminuzione ecco che nella settimana entrante potremmo utilizzare il prezzo massimo della settimana passata come livello di resistenza il prezzo minimo come livello di supporto e potremmo intervenire quindi alla rottura di questi livelli quindi quando durante la settimana i prezzi salgono sopra il massimo della settimana precedente scatta l'acquisto se invece i prezzi scendono sotto il minimo della settimana precedente invece scatta l'operatività short in questo caso cosa abbiamo fatto abbiamo utilizzato sempre un modello di breakout però filtrandolo con due aspetti il primo aspetto è il multi time frame cioè agisco contemporaneamente su due time frame uno il grafico settimanale e uno il grafico giornaliero sul grafico settimanale utilizzeremo il filtro della volatilità in diminuzione volatilità in diminuzione è un ottimo filtro generalmente per tutte le strategie di breakout perché le strategie breakout sono quelle stile effetto molla provate a immaginare di prendere una molla e di comprimerla con le mani quando la lasciate partire quindi mollate le mani la molla ha un forte movimento direzionale di espansione ecco questo è il principio alla base del breakout quindi se il breakout quindi questo movimento direzionale è anticipato da una contrazione di volatilità cioè dalla molla che viene chiusa la molla in questo caso sono i prezzi sicuramente dal punto di vista proprio statistico i risultati delle strategie di breakout migliorano sensibilmente questo quindi è un altro approccio che si può utilizzare però sempre vedete un approccio basato su un discorso di breakout poi giusto l'ultimo aspetto il petrolio si presta molto bene a tutte quelle che sono anche le strategie intraday perché è un asset sicuramente volatile è un asset che si presta anche a essere sfruttato con i bias di prezzo e sempre in ottica comunque come si dice breakout quindi sempre andando a comprare e vendere su rotture di prezzo in questo caso quindi possiamo unire che cosa possiamo unire il breakout con quelli che sono i giorni della settimana questo grafico che vedrete qui è un grafico anche questo gratuito vedete il sito si chiama intraday seasonals.com è un grafico vedete che vi dice a seconda delle fasce orarie della giornata come storicamente si è comportato il titolo in questo caso le statistiche vedete sono fatte dal 2006 ad oggi questo è un grafico che ho fatto oggi pomeriggio notiamo ad esempio che lunedì tende ad essere una giornata vedete ribassista altre giornate invece come il martedì magari invece tende a essere almeno nella fase centrale della giornata più rialzista da questo punto di vista anche il giovedì tende a essere almeno nella prima parte rialzista possiamo notare vedete che ci sono nella fase finale di molte giornate vedete delle fasi ribassiste quindi anche questi potrebbero essere degli spunti molto interessanti per quanto riguarda l'operatività intraday come filtri nell'ultima parte della seduta ad esempio nelle giornate ad esempio di giovedì di mercoledì e di martedì posso cercare lo short lo short lo potrò cercare nella prima parte del lunedì e nella prima parte del venerdì ad esempio questi sono tutti esempi di bias che possono assolutamente essere sfruttati in questo caso vi presento un'altra strategia intraday molto semplice in questo caso che può sfruttare che può eseguire anche qualsiasi trader discrezionale la selezione delle strategie che faccio vedere oggi sono quelle che possa fare qualsiasi neofita anche a mano senza dover necessariamente andare a diciamo così scrivere righe di codice con metatrader 4 piuttosto che pro real time eccetera si lavora in intraday si lavora sul time frame a 60 minuti e questa strategia che cosa fa dice se è martedì o giovedì allora opera ma opera solo long abbiamo detto che martedì e giovedì sono le uniche due giornate dove storicamente soprattutto nella prima parte e qui nella seconda del martedì diciamo così il petrolio tende ad avere delle giornate positive quindi se è martedì e giovedì che sono giornate che si prestano l'operatività long allora che cosa fai compri quando i prezzi sul grafico a 60 minuti rompono il prezzo massimo delle ultime 60 barre quindi delle ultime 60 candele scusatemi delle ultime 20 candele da 60 minuti ciascuna una volta che hai comprato c'è uno stop loss in questo caso è fisso monetario come dicevo prima di 1000 dollari e poi a seconda della fascia oraria in cui ci troviamo o andiamo a prendere profitto sul massimo delle ultime 20 barre oppure mettiamo un target price di 3000 dollari in questo caso quindi in questo caso sarebbe una strategia che piace anche agli amanti del rapporto rischio rendimento perché abbiamo uno stop loss di 1000 e un target potenziale di 3 quindi di 3 volte tanto in realtà sul rapporto rischio rendimento 1,2, 1,3 ce ne sarebbe da raccontare parecchio e spesso e volentieri è un falso mito del trading su alcuni approcci può funzionare su altri come ad esempio quello min reverting nel rapporto 1,2, 1,3 è diverso il concetto comunque non abbiamo il tempo di approfondirlo ma sarebbe interessante invece per l'operatività short si fa il contrario cioè se non è martedì quindi se è lunedì mercoledì giovedì venerdì eccetera allora puoi eseguire operazioni short tranne il martedì quindi vedete che di fatto abbiamo inserito dei filtri che sono basati in questo caso sui giorni della settimana per il long martedì e giovedì devono essere i giorni deputati per lo short tutti i giorni tranne il martedì a questo punto quindi se non è martedì ma è uno di quei stessi altri giorni e i prezzi scendono sotto il minimo delle ultime 20 barre allora vai a diciamo così aprire una posizione short poi anche qui a seconda delle fasce orarie abbiamo un target oppure un livello comunque di prezzo a cui chiudere la posizione in ogni caso se non scatta il take profit non scatta quindi la condizione di chiusura della posizione e non scatta neanche lo stop loss comunque tu a fine seduta vai a chiudere la posizione quindi è comunque una strategia che non contempla il portare la posizione overnight quindi comunque sia a fine seduta indipendentemente dal contesto chiudi la posizione giusto per completezza poi ti cedo la linea perché sono già le 7 possiamo lavorare anche su anche in questo caso con un approccio multi time frame quindi possiamo lavorare sul grafico giornaliero più il grafico a 60 minuti oppure si potrebbe declinare e quindi sul grafico giornaliero ad esempio lavoriamo con un filtro di tendenza se i prezzi sul giornaliero sono a rialzo e manteniamo i giorni della settimana come abbiamo indicato allora eseguiamo solo operazioni rialziste se la tendenza giornaliera è ribassista allora andremo a sfruttare solo l'operatività ribassista questo è un esempio di multi time frame un altro esempio di multi time frame può essere quello legato al 60 minuti e ad esempio al 15 quindi sul 60 minuti in questo caso non cerco più l'operatività di ingresso ma cerco la tendenza e sul 15 minuti cerco invece l'ingresso operativo posso fare anche un approccio di questo tipo l'importante è e questo è il concetto che volevo trasmettervi che prima di iniziare a fare trading su un qualsiasi sottostante andiate a indagare quali sono le caratteristiche di questo sottostante quindi a capire qual è il carattere sul grafico giornaliero e sul grafico intraday e andare a vedere se ci sono dei bias quindi se ci sono delle stagionalità legate proprio ai mesi dell'anno piuttosto che ai giorni della settimana o anche alle fasce orarie che vi permettono quindi di inserire dei filtri che migliorano l'operatività vedrete che utilizzando questi filtri questa scrematura iniziale voi riuscirete a trovare una pluralità di strategie che generano delle equiti crescenti ricordatevi solo che il carattere può cambiare nel corso del tempo quindi periodicamente bisogna tenere aggiornate le analisi e quindi di conseguenza poi le strategie ok ah questa era l'equity line scusatemi di questa strategia che vi ho appena descritto così nude e cruda come ve l'ho descritta senza nessuna trucco è 45 gradi non male e questa è una inequity line ripeto che anche qualsiasi discrezionale può assolutamente seguire poi se uno fa trading system allora si possono si possono inserire molti filtri in questa strategia dicevo il multi time frame si possono mettere filtri di volatilità molto utili si può lavorare con un trading profit molto più raffinato insomma si possono fare delle cose e migliorarla sicuramente questa però di base questo è il risultato di quello che vi ho appena descritto sì sì no perfetto perché poi con la ricerca di una strategia dedicata ad alcuni strumenti sicuramente insomma con lo studio poi si arriva a questo tipo di risultato penso ci siano voluti anni però per arrivare a quell'equity line beh sì sicuramente qualche anno ci vuole d'accordo allora io prima di lasciarvi prima di terminare questo evento ho il piacere e l'onore di presentarvi un altro professionista del settore lui è laureato in Bocconi Master in Finance e Investment nel Regno Unito ha un passato da Financial Advisor poi ha passato tre anni come trader sui future nella società Matt Traders di Londra nella City sul floor i colleghi inglesi lo hanno riabattezzato dei Italian Sniper per il cecchino italiano per le sue analisi e i livelli sul petrolio e sul gas naturale nel 2017 nella stessa società ottiene una performance al netto delle commissioni del 69% lascia la City per tornare in Italia e perfeziona la sua carriera all'interno di un importante broker per i primi due anni lavora lì dopodiché IG fiuta il talento e gli propone un contratto d'oro si afferma subito come punto di riferimento sia per i colleghi che per i clienti è un professionista un collega e un amico ho il piacere di presentarvi il nostro Premium Client Manager Pietro Bellotti Pietro ci senti? mi sento benissimo grazie per la presentazione molto colorita si vi mostro prima sottofondo chiaramente dei miei contatti cosa aggiungerà alla presentazione di Andrea che cosa fai? esatto allora per IG mi occupo principalmente del servizio premium quindi mi occupo di garantire ai nostri migliori clienti un servizio dedicato innanzitutto che vuol dire avere l'assegnazione di un manager di riferimento che permette al cliente in qualunque momento di contattarlo e avere sia informazioni di supporto chiaramente sulla piattaforma il conto stesso o i mercati tra parentesi in questo periodo stiamo facendo anche un webinar tutte le mattine a cui potete registrarvi direttamente dal nostro sito in cui dalle 9.10 alle 9.15 parliamo delle situazioni macro attuali e dell'apertura dei mercati europei insieme quindi una cosa che stiamo portando avanti in questo periodo di post lockdown in cui ancora facciamo smart working e poi ci dedichiamo anche per i clienti a servizi di coaching quindi gestione di strategie one to one gestione del rischio e poi chiaramente diamo la possibilità ai nostri junior e clienti di avere un accesso prioritario anche per esempio al trading desk quindi la possibilità di fare esecuzione di ordini personalizzati quindi se insomma vi interessa sapere di più su questo tipo di servizio che garantiamo ai nostri clienti avete qui sullo schermo dei contatti potete sia telefonarmi che contattarmi per email oppure cercarmi su LinkedIn insomma allora grazie Pietro sono arrivati un po' di domande per te il tema era il petrolio e sono rimasti coerenti ce ne sono diverse ti passo la più cattiva quali sono i rischi che possono bloccare il rialzo del petrolio e dove vedi il petrolio tra sei mesi wow ok allora cerco di essere conciso perché chiaramente si potrebbe parlare a lungo per quanto riguarda i rischi principalmente sapete che per il petrolio si tratta di equilibri molto delicati tra domande e offerta in particolare ci troviamo adesso in una situazione post lockdown in cui stiamo uscendo da una situazione di mercato per quanto riguarda il petrolio di oversupply cioè in cui la domanda è scesa ai minimi e l'offerta invece è stata per il mese di marzo ai massimi dopo che sono iniziati i tagli alla produzione da maggio questa situazione si è un pochino ristabilizzata ed è poi quello che ha portato i prezzi ad andare da sotto zero al mese scorso ad attualmente ai 32 dollari dove ci troviamo adesso come vedete dal grafico quello che può succedere quindi un rischio importante di questa situazione è che i prezzi siano saliti un po' troppo in fretta e che quindi si ha un po' troppa confidenza in questo discorso di il peggio è passato siccome a inizio giugno il 9 e il 10 giugno ci sarà un nuovo meeting dell'OPEC Plus quindi di tutti i paesi esportatori produttori di petrolio questo potrebbe portare questi paesi a decidere anticipatamente di per esempio di ridurre i tagli alla produzione per esempio la Russia è molto aggressiva su questo fronte mentre l'Arabia Saudita è un pochino più lungimirante e addirittura ha annunciato che farà un taglio spontaneo diciamo di un extra milione di barili al giorno alla produzione questo è sicuramente da tenere d'occhio un'altra situazione molto problematica è quella che vedete oggi tra Stati Uniti e Cina essendo la Cina il più grande importatore al mondo di petrolio se ci fossero delle nuove sanzioni da parte di Trump alla Cina questo porterebbe chiaramente alla diminuzione della richiesta da parte della Cina di petrolio diminuisce la domanda e quindi chiaramente il petrolio torna a scendere quindi il prezzo potrebbe ritornare più in basso un terzo aspetto invece importante molto sottovalutato è l'eventuale scopio di una seconda ondata di pandemia questo ad oggi chiaramente speriamo che non succeda i dati sono incoraggianti però è possibile che in un futuro insomma ci sia eventualmente una situazione del genere che sarebbe disastrosa sia per tutta l'economia globale ma soprattutto per il petrolio perché porterebbe come il mese scorso a lo spauracchio di nuovi prezzi negativi ecco dove vedo il petrolio era l'altra domanda dove vedo il petrolio tra sei mesi allora qui vi mostro innanzitutto delle resistenze di supporti molto interessanti io ho disegnato i ritracciamenti di Fibonacci da diciamo i massimi che c'erano stati a febbraio al minimo toccato esattamente qui dopo il crollo a fine aprile questi ritracciamenti sono molto interessanti perché sono serviti come vedete più volte sia in questa fase di stallo sia nelle ultime settimane come supporto più volte questa linea invece è un'altra soglia molto interessante che è quella vicina ai 35 dollari questa linea non è altro che il prezzo di apertura del lunedì nero del 9 marzo quando c'è stato l'annuncio da parte dell'Arabia Saudita che la produzione invece che diminuire sarebbe aumentata e c'è stata un'apertura in gap fortissima come vedete che ha portato l'apertura proprio a un crollo di quasi il 30% nel weekend quindi questi due sogli al momento stanno imbrigliando un po' il prezzo del petrolio quello che ci si aspetta chiaramente rischi permettendo come abbiamo risposto alla prima domanda è che il prezzo salirà e che quindi entro fine anno si possa essere più vicini ai 40 dollari diciamo sui 37 e 38 dollari però i rischi al momento sono molto sono molto pesanti soprattutto perché oggi c'è stato il dato sulle scorte e non so se avete visto ma sono uscite delle scorte in aumento di quasi 8 milioni di barili conta delle aspettative invece in diminuzione delle scorte quindi questo è un dato che potrebbe invertire un po' il senso dopo le due settimane precedenti in cui le scorte erano risultate diminuite e portare appunto i prezzi a stornare e riportarsi intorno ai 30 dollari o addirittura ritornare a questa soglia di ritracciamento di Fibonacci a 26-28 dollari quindi diciamo entro sei mesi mi aspetto comunque magari un primo periodo al ribasso e poi un ritorno a testare questi massimi a 35 per poi andare più vicino alla soglia di 40 dollari ma infatti Roberto che è molto attivo sulle domande mi ha scritto molte domande quindi una ve la devo passare perché è giusto ne ha scritte veramente una ventina tartassate sì 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 e quindi una deve passare per forza oggi c'è stato un rialzo delle scorte e un rialzo del prezzo anomalo no il prezzo non è salito oggi il prezzo è leggermente al ribasso però devo dire che effettivamente mi sarei aspettato uno storno più importante sicuramente sopra il punto percentuale anche perché adesso la volatilità è molto alta e quindi quando ci sono notizie legate al petrolio di solito ci sono dei movimenti degli swing abbastanza interessanti è possibile che comunque le aspettative possano essere soltanto di una settimana un diciamo un inciampo per questa settimana sulla data delle scorte e poi ritornino a migliorare chiaramente non è non è un'aspettativa non è che tutte le settimane siano in diminuzione queste scorte quindi è possibile che ci siano delle situazioni intermedie però se tornano ad essere più regolarmente in diminuzione soprattutto grazie a Italia alla produzione che sta facendo l'OPEC Plus è possibile poi che dopo un primo periodo di storno ci sia il ritorno a soglie diciamo sopra 35 dollari chiarissimo grazie mille Pietro grazie mille Gabriele è stato un onore averti con noi ancora una volta e spero in futuro di essere mio onore mio molto volentieri di averti di nuovo con noi grazie Gabriele grazie buona serata a tutti per rivedere il webinar registrato basta andare su YouTube cliccare su iscriviti in modo tale da ricevere la notifica grazie